Cambio Cambio Staccatore del video Siamo a 6-5 minuti No Una per l'arbitro e due di loro Un po' tre Divento sti facciaggi E' difficile Non ha vinto all'andare Quagliarelli Siamo in giù E' nella Juve E' nella Schacht Nella Schacht Nella Schacht 2-2 Sto facendo un giallo Buona Giocano Ma sono carino Stai 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 Divento Certo Croco Puoi Conta la squadra, ho l'individualità, te lo vedi, vai dai c'è qua. Vai, vai, vai! Ciao Marco! Tu la palla, tu! Ma che maschio dietro, maschio dietro! Bravo Marco, buono! Ma che non ha sacco a tre, ma è sempre vero. Vai, gioc, gioc, gioc! In questo momento sono le mediei alle palla. Oh, quelle là davanti, che sennò è in rase. Prezzo, non mollare! Quella è sempre in marco. Nooooooo! Noooo! Sto scendo, veramente! Dai, dai! Sto facciamo l'aria! Che c'è? 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 di Saki, poi abbiamo paura.